E sia una sola cosa, e che il mondo verrà, e sia un solo amore, e che il mondo verrà. Signore Gesù Cristo, all'origine della tua passione, hai me dato perché i tuoi dicevoli fossero uniti, perfettamente come tu del Padre e il Padre e il Padre. Nel percorso della diocesi di Rimini, sulla strada della concordia con le altre tradizioni cristiane, che sinteticamente chiamiamo ecumenismo, c'è da alcuni anni una presenza fedele e operosa, quella del Coro Internazionale San Nicola. Il Coro Internazionale San Nicola è nato nel 2012 per iniziativa di due cori, il Coro Millennium e il Coro Ecclesiastico della Cattedrale Ortodossa di Rimini. Infatti, in occasione di una celebrazione ecumenica nella chiesa di San Nicolò, il 6 dicembre 2012, dopo aver cantato, alternandosi come previsto, i due cori avevano terminato la funzione, eseguendo spontaneamente insieme l'inno Akatistos a San Nicola. Da allora hanno scelto di cantare anche in un unico coro, esperienza rarissima nel panorama internazionale. Il compito della direzione è stato assunto da Guglia Valmaggi, insieme, sino al 2016, ad Alexander Batirjan Smakoff. Una frase del teologo Hans Urs von Balthasar illustra efficacemente lo spirito dell'iniziativa. Eseguendo la sinfonia divina, la cui composizione non può essere in alcun modo ricavata dai singoli strumenti e neppure da loro insieme, tutti conoscono per quale scopo sono radunati. All'inizio siedono estranei e rivali, l'uno accanto all'altro. Improvvisamente, quando l'opera comincia, comprendono perfettamente come tutti si integrano a vicenda. Non all'unisono, ma, cosa molto più bella, in una sinfonia. Due cori, due repertori ed una unità visibile, non solo udibile. Questo è stato l'inizio. Un incontro. Innanzitutto, l'incontro fra i cori. Diversi, per appartenenza ecclesiale e nazionalità, i coristi hanno trovato la via dell'unità e della coralità comune, grazie alla reciproca stima e al desiderio di collaborare. È un passo sulla via della comunione cristiana, tra fratelli che hanno storie diverse, ma uno stesso amore a Cristo. Dirlo con la musica è sembrato il modo più bello per comunicare la speranza e la volontà di continuare a condividere l'impegno ecumenico, il sostegno reciproco e la carità nella preghiera e nella vita quotidiana. Grazie. Grazie. A Rimini, da dieci anni, il coro anima le celebrazioni ecumeniche. Il 9 maggio, ricorrenza della traslazione della reliquia di San Nicola. Il 6 dicembre, festa liturgica del santo, San Nicola e la sua reliquia. E nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Anche i santi sono importanti per il cammino comune, soprattutto quelli più antichi, vissuti nel periodo in cui non si era ancora verificato lo scisma nella frattura della riforma protestante. Si tratta dei santi legati a Rimini e in particolare, oltre a San Gaudenzo, patrono della città, San Giuliano Martire e Santa Innocenza, prima martire di Rimini. Sono nati nuovi canti, che contribuiscono a farli conoscere anche attraverso internet e in varie lingue, perché la loro storia sia diffusa oltre i confini diocesani e nazionali. Devo con l'amore che riempie il mio cuore, non servo alcun Dios de noi, Signore. La vera virtù era odiata dal secolo tristo in cui disse la nostra signora diletta padrona di questo bel colle. L'antico inno a San Nicola, con un prezioso testo latino, indistici e legiaci, contenuto nel passionario medievale del Duomo di Rimini, è stato musicato e viene eseguito sia per la festa del Santo, sia in concerti in Italia e all'estero. In Serbia, un coro polifonico ne ha fatto la versione in lingua serba, curata da Slavisa Mitic. Il coro documenta come la musica possa essere un terreno d'incontro per superare barriere d'origine storica, etnica o religiosa. Solisti e coristi di differenti nazionalità affidano alla bellezza del canto i sentimenti, le memorie, la preghiera. La diversità La diversità La diversità La diversità delle tradizioni è una ricchezza che consente di affrontare anche nuove esperienze e opere, come quelle del compositore russo padre Silvan Tumanov, che scrive espressamente brani per questa formazione ecumenica. Accanto a lui, la riminese Marina Valmaggi, il compositore Enzo Boccero e il giovane maestro Federico Raffaelli, cui si devono numerose armonizzazioni. Entrambi i cori disponevano già di un ampio repertorio liturgico cui attingere nelle rispettive tradizioni e lingue. La novità consiste nell'eseguirle uniti. La novità è la forma di rispettive e rispettive e rispettive e rispettive e rispettive. E' un caso unico al mondo, ad esempio che brani della prestigiosa Missa Criogia Argentina vengano eseguiti da un coro internazionale ecumenico e con due solisti, uno cattolico e l'altro ortodosso, come è accaduto il 19 dicembre 2021 a Verucchio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.